Quindi se non vi sono obiezioni la Presidenza si intende autorizzata alla coordinazione... Cosa c'è? Stiamo in fase di votazione. Io vorrei andare avanti con la votazione. Allora, se richiamo al regolamento con il numero dell'articolo facciamo richiamo al regolamento. Altrimenti dobbiamo andare avanti perché siamo in fase di votazione. Deputata Lombardi Allora, se riguarda la votazione mi dica. Grazie, è un richiamo all'articolo 8 del regolamento. Sulle funzioni del Presidente che rappresenta la Camera assicura il buon andamento dei suoi lavori. Non riguarda la votazione. Riguarda la dichiarazione che ha fatto prima sulla ratifica della Convenzione di Istanbul. Noi siamo sicuramente molto contenti del fatto che entri in vigore. Vorremmo anche mettere agli atti però che in questo Parlamento sono la responsabilità che le compete dall'articolo 8 del regolamento. È ancora nelle sue funzioni un questore di cui lei è responsabile che ha dichiato una nostra collega. La ringrazio, la ringrazio, bene.